Amici, finalmente oggi dopo un'eternità hanno inserito le macchine tanto promesse e tanto attese su Fortnite, ovviamente. In questo video andiamo a scoprire i peggio segreti, le peggio cose, tutto ciò che riguarda le macchine, ovviamente le andremo anche a provare. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividete il video a tutti, sperando che non sia una scopiazzatura da GTA, o che comunque non sfoci tutto in un cringe incredibile. Non lo so, iniziamo. Allora amici, vi ho schippato il trailer perché l'avrete visto tutti 700 volte come minimo, e al posto di trovarci sul bus della battaglia come si fa di solito, sto giro siamo un attimino nella lobby perché volevo vedere il negozio, esatto, c'era questa skin manichino, molto carina, molto particolare, tra l'altro c'erano anche nella mappa degli easter egg di questo manichino, ma a noi non ci interessa assolutamente niente, e mettiamo pronto. Ci vediamo in partita. Allora signori, siamo sul bus della battaglia, la mappa non è cambiata praticamente di una virgola, Nell'ultimo video abbiamo esplorato il castello corallino, chiamato anche Atlantide, ma non preoccupiamoci oggi di scoprire segreti su Atlantide, bensì andiamo in zone tipo fattoria frenetica, totalmente a caso, e vediamo un po' di trovare qualche macchina, qualcosina, quanto urla il mio cosino, non so se avete sentito, perché ho messo l'audio del gioco bassissimo, ma in cuffia è altissimo, e non mi fa la corsa automatica, dannazione. Quindi non so dove, oddio ma se si potesse guidare il trattore, voglio guidare il trattore, oddio, ora dopo lo proviamo il trattore, soprattutto questo qua rovesciato, dicevo non so dove si trovano facilmente le macchine, credo proprio tipo lì di zona, lì c'è un lama, ok lì c'è un lama, quindi il nostro obiettivo è provare le macchine, vedere tutte le cose nascoste che ci nascondono, tutte le cose incredibili dalle macchine, e soprattutto portarci a casa la partita prendendo anche il lama, così già che ci siamo. Nel dubbio mi prendo questo pompoide, luto un po' di materiali e se trovo qualcosa di interessante vi farò sapere, ovviamente, per ora tutto bianco, quindi non c'è niente di incredibile. Non hanno preso il lama, è ancora lì per me, non l'ha visto nessuno, ci vado io, yeah. No, ma invece c'era un tipo, 91, boom, oddio non avevo visto il tipo, oddio, non avevo visto il tipo, oddio. Splash, scudini, c'è un bel po' di roba, mi do tutta la roba e poi prendi le macchine perché si è già carichi, oggi siamo canterini, lanciati le splash e prendi la forza scudo con i materiali e pure questi. Perfetto, siamo messi benissimo, dai fatemelo guidare, fatemelo guidare, fatemelo guidare, no, che gioco di me, dai potevano farmelo guidare. Vabbè, non si può avere tuttora la vita, però guidare il trattore è sempre stato il mio sogno. Che sogno schifoso, vabbè comunque, andiamo, cos'è una jump? Sì, ok, prendi la jump e poi andiamo alle macchine, ve lo giuro che poi andiamo alle macchine. Tra l'altro sta zona non l'ho neanche mai scoperta, vabbè, ci penseremo in un altro video. Oh, 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 raccogli tannica di carburante. Oh, macchina, ok, allora, a parte che c'è un t... Nooo, ok, sta guidando un camion, sta guidando un camion. Allora, frena mano, suona, ok. No, no, fermo, fermo, no, 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 no. E chi l'aveva sentito questo? Chi l'aveva sentito sto tipo? Dove si è? Dov'è il tizio? Dov'è il tizio? Ok, salve, salve, siamo della folletto, vorremmo fare un controllo. Salve, 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 muori, oddio, muori. Oh, oh, mamma mia non moriva, madre de Dios, el nino non moriva, parapapapapa, vabbè, oggi, niente, oggi siamo in tema Spagna. E quindi, va bene così, due kill ce le siamo fatte, abbiamo visto che le macchine sono belle gagliarde, cioè ovviamente ora le prenderemo ancora, però volevo provare la tannica di benzina che è lì dietro in realtà. Quindi, rubiamo il materiale, rubiamo anche questo qui che c'ha zero di carburante. Mmm, dannazione. Datemi i scudini, ma, oh, lì c'è un altro. Allora, 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 vedo un bel, oh, vedo un medikit, che salto ho fatto? Vabbè, vedo un medikit, me lo do un attimo e poi ci prendiamo le macchinine. Afferra la pompa! No! No, no, no! Allora, guida, questa spostiamola un attimo, ok, perché chiaramente io voglio il megacamion, chiaramente. Poi avviciniamolo, eh, signori, questa partita voglio proprio esplorare al meglio e come faccio a fare il carburante? Usa carburante per rifornire veicoli e fin qua c'eravamo, però come faccio a fare benzina? Ah, ah, gliela lancio addosso, ok, perfetto. Io me la ricordavo diversa, almeno con la mia macchina, vabbè, la prossima volta che farò benzina, al posto di metterla nel buco, la lancerò direttamente nel finestrino. Magari funziona lo stesso. Ok, è infinito, tra l'altro, il carburante. Sì, quindi, perfetto, abbiamo scoperto che è infinito e possiamo... Eh, eh, brucia tutto! Ok, vabbè, basta, lasciamo perdere. Ricarichiamo il pompide, perfetto, e ora partiti, per forza! Vola, piccolo camion, vola... E se investiamo in... Guarda che aerodinamicità! Pzzu, pzzu, vola tantissimo! E tra l'altro, voi mi sa che non le sentite, ci sono le canzoni tipo di Fortnite? No, 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 eh, eh, niente, 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 va bene, va bene, è andato, ok, è andato. Là c'è un tizio che non ho preso. Dai, camion! Camion, che figura mi fai fare davanti a un bel po' di persone? Ma se il camion va nell'acqua, muore per sempre, per sempre. E invece, uh, bravo camion! Vai camion, pusciali tutti col camioncione! Pusciamo i tizi, queste le spacca? Certo che le spacca, ma certo! È partito l'inseguimento, è partito l'inseguimento! Bam, 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 bam! Vai investilo, investilo, boom! No, sai guidare! Lo inseguiamo, lo inseguiamo, vai speronamento, speronamento, finirà la benzina prima o poi. No, infame, scendi Massa, scendi, scendi Dai che non c'hai vita Sì, abbiamo fatto esplodere la macchina Sì, ora spara, 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 spara Dannazione, pezzo di fango, pezzo di fango Scappa Massa, scappa, scappa, scappa Che casino signori, che casino, non mi hanno neanche fatto l'u... Oddio che spavento, oddio che spavento Cosa sta succedendo signore, cosa sta succedendo Dammi una pozza Bravo, ok, ok A caso Che bene, che bene Ora torni a lì e ci prendiamo il loot Ci metterà un po' a tornare, ma torniamo lì Sento elicotteri, macchine, esplosioni varie Sta succedendo di tutto Uccidiamo lui per vedere che ci dà M4, ok, che prendiamo Almeno abbiamo più colpi, 59 per noi Abbiamo fatto un genocidio Ma proprio geno, genocidio Lì il loot, tra l'altro, c'è ancora Io ci andrei Qua c'è qualcuno? Sembrerebbe di sì Sembrerebbe di sì 91, biatch 91, biatch Dai, 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 che siamo più forti di quel pollo Siamo più forti di quel pollo Ta, 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 ta Ah, vuoi prenderti il loot, eh Schifoso animale Ah Ah, quindi vuoi rubarmi il loot Ah, ah, noi glielo permetteremo, signori Noi glielo permetteremo Papà Papà Non ci ha capito niente Non ci hai capito niente What the What the Dai, pensavo di averlo preso alla sprovvista E invece no No, finisce batteria No, 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 no Dai, non ci credo Non ci credo mai È morto Stupido Stupido Eh, mi sa che vogliono farmi cadere, però, eh Jump, jump, jump Mamma mia che rischio Mamma mia che rischio Ora gli rubiamo tutto Gli rubiamo chiaramente tutto Vabbè, qua Oh, c'ha lo scar C'hanno il rampino Sì, sì, sento un tipo col rampino No, 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 fermo Dai, no, fermo Ti prego, fermo, ti prego Dai, sono appena Dai, ho appena finito un fight Dai, questo come me lo gestisco Intanto facciatemi Facciatemi nuova parola appena inventata Fatemi dare il medikit, signori Ah, beh, il medikit Scappo che questo è bello che a te è, signori Siamo morti, signori È stato un piacere giocare con voi Vi ringrazio per la visione Ma non è ancora finita Non è ancora finita Non è ancora Ho un'idea È solo un pazzo, lo so Sono un pazzo Sono un pazzo Via Ciao, 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 ciao Ciao, 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 ciao Me ne vado E mi rubo l'M4 che avevo lasciato prima Me ne vado, ciao Me ne vado, ciao, ciao Cosa ci fa quel tipo lì? Cosa ci fai lì? Oh, va bene Dicevo, non dovrei tornare nel fight Però ho una gran Uh, pozza, perfetto Uh, medikit, perfetto Ho una gran voglia di tornare nel fight Tra l'altro, non so Scrivetemelo voi nei commenti Quando finisce questa stagione Punto di domanda Che di sicuro voi lo sapete molto meglio di me Quindi scrivetemelo negli appositi commenti Che cosa ho appena visto? Dammi tutto, bitch Cioè, questa partita è un delirio, signori È un delirio Oltre aver provato le macchine Che magari se ci capita Ah, potrei... Oddio, potrei prenderlo in realtà Beh, fatemi andare un attimo qua Va là Salve, c'è qualcuno in giro? C'è qualcuno in città che vuole darmi fastidio? C'è gente lì con la macchina E c'è uno che lo insegue Ho sbagliato C'è il rampino E mi vuole pure pushar Stupidata di nuovo tra l'altro Via, via, via Andiamo in safe Tanto questo qua ora ci raggiunge Uh, ho un'idea I've got an idea I've got an idea Boom Boom, 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 boom Dai che non c'hai vita Dai, quest'uomo non c'ha vita Perfetto, bravo Master, cinque kill Cinque kill Tra l'altro un bel po' di tempo che non gioco a Fortnite Ok, arrivo un tizio in macchina Bello cattivo, bello gagliardo Questo qui c'ha pure la Thompson Signori cosa facciamo, signori cosa facciamo Prendiamo la Thompson e lasciamo il cecco No, il cecco mi serve Lasciamo la Thompson e prendiamo il rampino Totalmente a caso, lì c'è un tizio Tata, boom 6 kill per noi Boom, 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 bitches Boom, 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 bitches Guarda quante pozze Ma quante pozze c'hai No, oddio, quanta roba c'aveva No, è un pazzo, questo Allora fatelo dire, lei signora è un pazzo Nascondi tutto, nascondi tutto Questa qua è inguidabile, si è inguidabile Oddio è inguidabile Non ci credo, non ci credo Ma se entro nel grano con la macchina Eh, lo distrugge Ok, via via Carine le macchine, molto belle Soprattutto scommetto che sono 100.000 milioni Di milioni Di volte più divertenti In coppia o in squadra Cioè in squadra, signori vi invito a giocare a Fortnite Sempre in squadra Perché è tipo milioni di volte più divertente Fidatevi By the way, siamo rimasti in quattro gatti Letteralmente Io c'ho 6 kill Che è buono e buono E lì c'è un tipo che pensa che non l'abbiamo sentito Ma in realtà L'abbiamo sentito tipo tutti E quindi nel dubbio Spariamo Spariamo No, si è buttato Bro, bro Ah ok E io direi di farci una bella basettina Di ferro Tanto ne abbiamo in quantità letteralmente industriali Alziamoci ancora di uno Va là E vediamo un po' dove sono i cattivi Tipo lì Boom Sì sì Distruggimi la base Che io ti distruggo la vita BAC Guardalo lì come si cura E dirà Oh no Cosa vuole fare questo Mi sta per pushare Oh mio dio Sì Ti sto per pushare Stai fermo No lo inseguiamo Signori lo inseguiamo Lo inseguiamo fino alla morte Alla sua morte Dan 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 No Non ci credo Non ci credo Che menchiata What the What the What the È bianco È bianco It's white Dove sei? Ma muori Morto No Morto Ah siamo 1v1 Che situazione Fammi dare Basta ti prego Fammi dare la pozza Oh Oh è un pazzo Questo è un pazzo Io l'ho sempre detto che è un pazzo Parte l'1v1 Parte No dove è andato? Mi è salito No Mi è salito Ok Sta partendo il B No è straforte No Muori Sì Sì Vittoria reale Boom 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 Sì Signori Che partita Che partita 8 kill Buone Precisione 28% Ma lasciamo perdere Lasciamo perdere Oh bene Molto Distanza percorsa 4 km Che figo Signori Io direi Che me ne ritorno Alla lobby Da vincitore C'è proprio Standing ovation Per me Musica epica In sottofondo Cose Succedono cose Incredibili Quanto cattivo In questa schermata Di caricamento Vabbè Lasciamo perdere Io mi tolgo Le cuffie Come alla fine Di ogni video Ma signori In questo video Me le tolgo Con una fierezza Incredibile Abbiamo ottenuto Una mega vittoria Reale Abbiamo scoperto Che le macchine Sono abbastanza fighe Poi ci saranno Altre feature Incredibili Incredibili Che non abbiamo scoperto In caso scrivetemelo Con i commenti Vi ringrazio Ovviamente Per la visione Vi do appuntamento Domani Al solito Oro A vero Due e un quarto Con un nuovo video E sperando Che sia epico Come questo Ciao